Ci sono gli chef più bravi in attesa che tu dia gli ordini E fortunatamente avrai degli assaggiatori reali Ah sì? E che cosa fanno? Assaggiano il cibo prima che lo mangi il re per assicurarsi che non sia... Avvelenato Avvelenato? O troppo salato Non preoccuparti, sarai sano e salvo con tutte le tue guardie del corpo Guardie del corpo? Tutte quante pronte da un momento all'altro a sacrificare la vita per devozione a te Davvero? E tutto il regno si rivolgerà a te per saggezza e guida Stanzi Fa solo che non muoiono di pane O di peste Oh, la peste è brutta La tosse, i lamenti, le piaghe suppurative Piaghe suppurative, ehi Tu sei davvero un vicino divertente Che cosa metto? Non vogliamo che Artie si faccia un'idea sbagliata Ehm... Artie? Mi è partita l'altra Artie, che stai facendo? A te che ti sembra? Questo non puoi stabilirlo tu Ma io non so neanche su come si fa il re Ti imparerai sul lavoro Spiacente di deluderti, ma io faccio ritorno Ritorno a cosa? A essere uno sfigato? Ora guarda che hai fatto Quello che ho fatto io Chi ha il mano di divo peccato? Ah, ah ah Shrek! Sì, 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 Sì!